bababia direttamente da dal lettuccio magico ma via del tritone 89 dal mio amico roberto da io allora per chi volesse siamo all'osteria 87 via del tritone 89 mi raccomando ci vediamo tutti la austria 87 che direttamente via del tritone numero molto appunto ma cimorumano se non andavano dai ieri che l'aspettavo qua che be fregandoti che capelli oggi vi dico che ho 39 anni e non sentirli è proprio questo ma no perché so io perché lei mamma mia caduta del numero la più bella di Roma all'euglite ma affitto ma io devo paganovi l'affitto all'euglite due caffè 20 euro grazie a tutti